Rimo Froel, grande soddisfazione vincere 4-1 al Bente Godi contro il Chievo e mettere la firma in questo 4-1. Sì, siamo molto contenti, ricominciamo molto forte, abbiamo iniziato molto forte questo partito, dopo 5 minuti c'è 1-0 per noi e questo è molto importante perché dopo abbiamo molta fiducia. Era importante partire bene, ripartire da dove vi eravate fermate, il successo contro l'Empoli l'ultima del 2016, insomma la prima del 2017, si torna a vincere, soprattutto non è mai facile perché c'è una sosta di mezzo e invece voi vi siete fatti trovare pronti. E chiudete questo girone di andata a 35 punti, l'avresti mai pensato? No, quando siamo iniziati dopo 4 partite mai abbiamo pensato, arriviamo a 35 punti, ma adesso siamo qua, siamo contenti ma non è finito, vogliamo fare di più e vediamo cosa è successo dopo. Grazie.